Analizzato dal punto di vista anestesiologico e antalgico, come valuta la presenza di un sistema di localizzazione della punta del lago? Dobbiamo sottolineare che l'ecografia è duttile, è funzionale. Riconoscere la punta del lago secondo il nostro piano di indagine rappresenta un punto fondamentale per minimizzare gli errori e ottimizzare i risultati. I campi di applicazione dell'ecografia stessa restano infiniti nel territorio della medicina. Oltretutto l'acquisizione della pratica ecografica è un fiore all'occhiello sul quale noi puntiamo molto. È un tempo da insegnare già quando abbiamo degli studenti, non solo gli specializzanti. E aderisco a un gruppo che cura molto in particolare la formazione sotto questo aspetto. E visto che abbiamo parlato di ecografia in terapia intensiva per una diagnostica clinica, ci spostiamo anche in un ambito come quello della terapia antagica e quello dell'anestesia locoregionale. Di norma gli anestesisti sono scissi tra anestesisti e animatori intensivisti. L'utilizzo però di un setup, di una condizione che mi permetta di lavorare in sicurezza e soprattutto di insegnare a chi ha meno pratica, così come anche di perfezionarmi per quanto possa avere una maggiore esperienza. Tutti questi passaggi sono assolutamente funzionali. Riconoscere la punta del lago secondo il nostro piano di indagine rappresenta un punto fondamentale per minimizzare gli errori e ottimizzare i risultati. Tra i risultati ovviamente consideriamo anche la nostra stessa acquisizione, come anche quella dello specializzando che pone mano inizialmente all'ecografia, come anche successivamente. È un errore molto comune quando andiamo out of plane di perdere la punta del lago. L'identificazione più precisa che noi possiamo avere ci riduce l'errore, ci riduce il rischio e ci migliora l'esperienza e la formazione.